ok dovremmo esserci dovremmo esserci io spero che allora fatemi sapere se mi vedete c'è stato qualche problemino di collegamento ma mi sembra che adesso possiamo andare allora a me sembra di esserci di essere in diretta però non so se voi siete con me soprattutto se sentite la mia voce correttamente ha cercato di migliorare questo aspetto ma non so se funziona bene non so se devo fare qualcosa per migliorare c'è qualcuno che mi vede a sì qualcuno c'è mentre mentre mi aspettiamo ancora due tre minuti c'è stato un ritardo un piccolo ritardo da parte mia ma ditemi se sentite bene se funziona tutto come deve si sente bene mi dice enrico ottimo importante che non ci siano dei frusci perché la volta scorsa mi hanno detto che c'era questo problema tutto bene c'è enrico che mi assiste tutte le volte mi deve aiutare a ripartire ricco ballantini il nostro mentore perché se non ci fosse lui forse non riusciremo a fare tutto bene bene vedo che un pochino benissimo si sente bene ottimo ottimo mentre aspettiamo che ore sono sì ancora un minuto e poi cominciamo intanto ricordo agli amici che sono collegati che seguono regolarmente che riprendiamo la lettura da pagina 172 del libro dei mondi invisibili tutti i libri del cerchio firenze 77 sono editi dalle edizioni mediterranee tranne i tre della storia del cerchio che ho scritto io che li trovate solo su amazon quelli sono intitolati il cerchio firenze 77 una storia vera divenuta leggenda ecco quelli la li potete trovare solamente su amazon è l'unico l'unico possibilità mentre gli altri sono tutti pubblicati quelli proprio con gli insegnamenti dei maestri sono tutti pubblicati delle edizioni mediterranee compreso questo primo dai mondi invisibili di cui noi stiamo facendo la lettura della parte filosofica adesso che svolta soprattutto da quella voce quella entità quel maestro che si è presentato col nome campis campis che non ne ha niente a che vedere con tommaso da campis per cui avrete sicuramente di cui avete sicuramente qualche notizia qualche conoscenza allora io direi allora maria grazia mena dora saluto tutti mauro maria vittoria adriano anna anna antonio serena tiziana mi fa molto piacere che siate qua tutti insieme bene 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 c'è anche nicola bene allora riprendiamo riprendiamo con la nostra lettura riprendiamo con la nostra lettura che si fa sempre più più interessante si entra sempre più nel vivo di alcune cose importanti ricordate che l'anno scorso l'anno scorso la volta scorsa abbiamo detto che c'è a un certo punto dell'evoluzione che inizia dai mondi minerali mondo vegetale mondo animale si arriva al proseguendo in questa costituzione di corpi sempre più raffinati si arriva finalmente alle prime incarnazioni da uomo prime incarnazioni da uomo che prevedono che cosa prevedono una condizione diversa fino a quella a quella fase evolutiva quella precedente quella del mondo animale anche l'animale molto evoluto siamo comunque sempre nell'area di una un centro di sensibilità e di espressione con l'uomo arriva il momento evolutivo per un centro di coscienza e di espressione perché l'uomo è l'unico essere capace di riflettere su se stesso ed è una fase in cui l'autocoscienza si determina con la successione delle evoluzioni e l'autocoscienza è intesa come contatto con quella parte di sé che da sempre abita tutte le fasi evolutive ma che diventa pienamente in contatto proprio con l'evoluzione da uomo ed è la scintilla divina l'uomo comincia per piccolissimi passi a connettersi coscientemente con questa parte divina che ha in sé vi ricordate parliamo delle gocce dell'oceano quindi la goccia della stessa natura dell'oceano ma inconsapevole di essere goccia di essere a contatto con tutto il resto che lo circonda e quindi sì si vive una condizione l'uomo soprattutto nelle prime fasi della sua evoluzione da uomo vive una condizione di autocoscienza autoconsapevolezza ma ancora molto immatura non è focalizzato ancora su qual è la meta che attraverso successive incarnazioni molteplici incarnazioni arriverà a raggiungere quindi siamo arrivati alla alla metà della pagina 172 riprendiamo la nostra lettura ci si potrebbe domandare dice il maestro a questo punto se vi siano dei fatti i quali possano comprovare che esiste la legge di evoluzione spirituale è una cosa non impossibile ma certamente strana pensare di trovare dei fatti che possano dimostrarci l'evoluzione se si pensa che l'evoluzione è un fattore nel campo umano individuale cosa ci sta dicendo l'evoluzione è l'evoluzione di un essere poi si declina nell'evoluzione della forma delle specie in quello che noi vediamo nel mondo dell'apparenza ma dal punto di vista spirituale è un fatto assolutamente individuale cioè c'è uno stato di coscienza una quantità di coscienza definito dai maestri un sentire quel sentire ha il suo percorso una successione di incarnazioni che provengono dai mondi precedenti a quello umano e che poi si svolgono nel percorso nella fascia evolutiva che si chiama vita da uomo si svolgono queste incarnazioni in quella fascia ed è un fatto estremamente individuale esiste un'evoluzione della materia un'evoluzione della forma un'evoluzione dell'autocoscienza l'evoluzione della materia che fare ricordate le prime lezioni che abbiamo fatto con il macrocosmo poi abbiamo i microcosmi e vediamo l'evoluzione della forma usate qui spendo questo telefono ecco fatto e quindi e quindi chiudiamo questa chiamata e quindi abbiamo un'evoluzione dell'autocoscienza laddove l'uomo prende contatto con la scintilla divina l'evoluzione dell'autocoscienza riguarda proprio il campo la sfera umana e quindi per osservare l'evoluzione nel suo svolgersi si deve guardare non l'umanità ma l'uomo giacché l'umanità non è sempre formata dagli stessi individui quindi come si può fare un paragone fra l'umanità di oggi la quale è formata da una qualità x di individui e l'umanità di 100 o 200 o 300 o anche mille e più di mille anni fa la quale era formata da una qualità y di individui x e y sono semplicemente per per indicare una differenza nelle due umanità non che esista un'umanità definita x e una definita y vedere se vi è stata un'evoluzione grosso modo lo si può fare ma a rigore questa analisi non è esatta perché se si prendesse ad esempio la penultima umanità di atlantide quella del massimo splendore e la si raffrontasse con l'umanità di ieri o di oggi si dovrebbe dire che vi è stata una involuzione e così se si prendessero le razze giunte al massimo dell'evoluzione sul pianeta terra e le si raffrontassero con le altre razze che sono subentrate a queste si dovrebbe dire che non esiste la legge di evoluzione bensì la legge di involuzione quindi non si può comprendere o trovare tracce della legge di evoluzione dell'autocoscienza altro che esaminando il singolo individuo attraverso alle molteplici incarnazioni allora lì si vede una creatura che parte da un livello estremamente esiguo di coscienza tutto concentrato semplicemente sui propri bisogni quasi istintuali perché proviene come precedenti incarnazioni dal mondo animale anche se alcuni animali sono molto sviluppati sia come capacità mentale che come capacità di come dire di sentire però sono fanno parte del mondo animale c'è soprattutto un istinto animale che prevale e c'è una un forte senso del legame un senso di abnegazione ma non sono non sono intellettualizzati non parla non passano attraverso una mente cosciente di sé cosa che invece avviene per l'uomo l'uomo alle prime incarnazioni potrebbe addirittura sembrare meno evoluto di un qualsiasi cane che abita nelle nostre case che di cui diciamo gli manca solo la parola no ogni tanto ci ci capita di dire questo gli manca la parola e anche molto altro gli manca quel quel grado di coscienza evolutivo che invece hanno le persone coloro che vivono come uomini cioè è proprio un'altra fascia un'altra fase non si possono mescolare le due aree è un'altra fase poi abbiamo visto nelle letture precedenti come non ci soffermiamo sul fatto che alcuni uomini veramente sembrano manifestare se stessi più come animali che come uomini e questo non vuol dire che la loro evoluzione sia inferiore a quella degli animali vuol dire solo che la loro evoluzione umana è molto 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 ancora da sviluppare molto matura ai primi passi no e lì vediamo che c'è una grande attenzione solo per se stessi un egoismo sfrenato una minima o nulla attenzione per gli altri ma nel percorso evolutivo anche di questi individui nelle successive incarnazioni noi vediamo sempre che c'è una progressione cioè c'è sempre un po meno di questo egoismo e un po di più di attenzione a quello che succede intorno fino addirittura a trasformarsi in un'attenzione agli altri e poi diventare un'attenzione preponderante per gli altri e poi che ne so scegliere come professioni nella propria vita professioni in cui ci si dedica agli altri per esempio faccio degli esempi semplici tanto per capirsi di cosa parliamo e quindi questa forma di attività che ci vede impegnati verso gli altri non più esclusivamente solo per noi stessi questo fa sì che si possa intravedere questo percorso evolutivo in un essere che passando attraverso successive incarnazioni aggiunge sempre di più elementi al ricchezza al proprio bagaglio di coscienza e ogni volta che si ripropone sul palcoscenico della vita è arricchito di quelli e i suoi comportamenti saranno quindi sempre maggiormente adeguati e andranno sempre più nella direzione di superare il cieco egoismo e andare di più verso quella fase che noi chiamiamo altruistica un po più dedicata agli altri evoluzione dopo il trapasso evoluzione dopo il trapasso bisogna capire bene che cosa vuol dire questo capitoletto ci dice sta per quel ciclo che l'individuo compie dopo che ha abbandonato il veicolo fisico ciclo che non è identico per tutti gli individui ci sta dicendo che cosa succede dopo il trapasso qui bisogna distinguere bene il termine evoluzione sempre lo stesso evoluzione durante il percorso di un essere nei suoi nelle successive incarnazioni ed evoluzione dopo il trapasso che indica semplicemente la fase dei passaggi che avvengono quando si è lasciato il corpo fisico e noi abbiamo già visto che lasciando il corpo fisico facciamo una serie di esperienze che sono proprio dei passaggi che servono a piano piano a capire bene che cosa è accaduto durante il nostro percorso nell'ultima incarnazione se possibile anche collegare quello che sperimentiamo dopo il trapasso in con le incarnazioni precedenti per anche per trovare un significato un senso ulteriore rispetto a quello che si è vissuto talvolta in maniera abbastanza inconsapevole e quindi poi procedere in questo cammino del dopo trapasso che porta piano piano a sciogliere i vari corpi di cui siamo costituiti e cioè il corpo astrale il corpo mentale di cui abbiamo già parlato a suo tempo perché questo ciclo non è identico per tutti si può dire a rigore che è diverso per ogni individuo perché ognuno dopo un'incarnazione segue un suo ciclo a seconda dell'evoluzione a seconda delle esperienze dei desideri dei pensieri e via dicendo che ha avuto nell'incarnazione ultima non solo ma questo ciclo è diverso per l'individuo da un trapasso all'altro da una vita all'altra quindi quello che ci diranno adesso le guide sono indicazioni abbastanza generiche che valgono in maniera generalizzata ma non in maniera specifica per ognuno perché in qualche modo ognuno ha una sua storia come del resto è esattamente per per ognuno di noi ognuno di noi viene veniamo tutti al mondo nello stesso modo veniamo tutti quasi tutti la quasi totalità di noi al mondo con due braccia due gambe una testa abbiamo un funzionamento organico più o meno quello è quello dell'uomo però ognuno ha una sua storia diversa da quella degli altri anche molto molto diversa e questo dipende proprio dall'evoluzione di ogni individuo così come nella vita ognuno di noi ha storie molto diverse dagli altri così lasciando il corpo fisico il percorso è simile per tutti ma in maniera specifica diverso uno dall'altro vorrebbe dire questa evoluzione dopo il attrapasso quel tempo che l'individuo animale uomo superuomo impiega a liberarsi dei suoi veicoli inferiori il corpo astrale e il corpo mentale così se ad esempio un individuo non ha ancora abbandonato il suo veicolo astrale non vuol dire che sia evolutivamente inferiore ad un altro che si trova nello stesso momento nel piano mentale perché appunto può darsi che colui che in questo momento è nel piano mentale sia trapassato prima di colui che si trova nello stesso momento nel piano astrale evoluzione in questo senso ha completamente un altro significato da evoluzione spirituale questo è importante l'evoluzione dopo il trapasso ha tutto un altro significato dal termine evoluzione spirituale sì che ci sembra più giusto chiamarla purificazione questa evoluzione dopo il trapasso la potremmo chiamare purificazione i pochi che prima dell'avvento dello spiritismo hanno potuto comunicare con le anime dei trapassati erano creature che sapevano conservare il segreto dedite all'occultismo e le rivelazioni che hanno avuto da queste comunicazioni spesse volte sono morte con loro o non sono andate oltre ai loro discepoli segreti come i loro maestri allorché si ebbe questo grande movimento spirituale che si è manifestato dapprima con lo spiritismo subito l'uomo si è preoccupato di indagare sull'aldilà e naturalmente molte persone si sono fidate di quello che le entità dicevano non tenendo conto che le entità subito dopo il trapasso continuano a vedere con i loro occhi e osservano le nuove entità soggettivamente quindi le nuove verità soggettivamente quindi tutto quello che è stato detto durante certi incontri non corrisponde perfettamente alla verità ma all'idea della verità che si sono fatte certe entità ecco il motivo per cui a volte nelle sedute spiritiche vi sono delle discordanze tra quello che le entità dicono ciascuno parla della sua realtà è giusto dire che il sonno della morte è un sonno con sogni e che nella vita le azioni e i pensieri della giornata influiscono sui sogni così le ideologie sulla vita le fedi ciò che l'uomo crede in vita tutto questo influisce su quello che sarà il sonno della morte cioè il cosiddetto sonno della morte in realtà è popolato da una quantità di immagini pensieri esperienze che sono il frutto della dell'incarnazione vissuta delle caratteristiche dell'incarnazione vissuta dell'uomo che ha vissuto quelle esperienze per cui il cristiano sognerà il paradiso promesso dalla sua religione il pelle rossa i verdi pascoli il buddista sognerà il nirvana e così via quindi capite bene come è molto diverso è un po come se che vi posso dire voi non siete mai stati in australia per esempio se chiedete a un cittadino di sydney come l'auto l'australia vi dà una risposta se fate la stessa domanda a un aborigeno che pure vive anche lui in australia vi dà una descrizione l'australia completamente diversa soprattutto se non è mai stato in una grande città se ha vissuto sempre nelle aree desertiche nascoste dove vivono alcune alcune tribù per conto loro che non hanno mai avuto contatti eppure vivono nella stessa terra no per cui vi daranno una descrizione diversa stessa cosa per per ogni individuo che trapassa quell'individuo in base alle caratteristiche che lo ha identificato lo hanno identificato durante la l'ultima incarnazione vedrà intorno a sé cose diverse cose che sono corrispondenti alla sua esperienza alla sua conoscenza in qualche caso in caso di particolare rivoluzione forse vedrà qualcosa di più di questo ma dobbiamo fare conto che ognuno ha una propria visione ed è per questo che anche trapassati le entità che in qualche modo attraverso un mezzo di comunicazione riescono a raggiungere i viventi con con le loro informazioni daranno loro una come dire una descrizione parziale di quello che stanno vivendo allora adesso ci sono delle paginette interessanti nelle paginette interessanti in cui viene descritto il modo in cui uno può vivere soprattutto all'inizio della sua esperienza il dopo vita in maniera estremamente soggettiva dicono qualche c'è non vi sono alcune parti che sono come dire redazionali non sono quelle dei maestri una di queste piccolo piccoli paragrafi redazionali dice nella seduta in cui vi furono date le notizie che riportiamo in queste pagine a titolo dimostrativo della soggettività che impronta il concetto di ogni trapassato circa il mondo nel quale si trova le nostre guide fecero manifestare l'entità di un poeta moderno ateo il suo ostinarsi a credere che nulla debba esservi dopo la morte del corpo fisico gli faceva concepire un mondo di silenzio come se nel silenzio tutto si dovesse annullare ed egli avesse così conferma di essere stato nel giusto a proposito delle sue idee di ateo ora superata quella convinzione così descrive il suo precedente stato quindi l'entità che parla nel momento nel momento in cui comunica ha superato quella fase che adesso ci descrive e avendola superata ce la descrive ed è stato un momento difficile per questa entità dice un silenzio più buio della notte fonda più freddo del gelo più sordo della pietra non un tarlo che faccia scricchiolare un mobile non una luce non un'immagine che parli tutto tace un silenzio buio che non ti riempie più solo della solitudine più freddo e più vuoto della morte nella tomba almeno i vermi che ti rodono le carni parlano la morte che ti strazia parla qui tutto si è fermato perché tu l'hai fermato non hai voluto ascoltare ora anche la tua voce è afona altra nota redazionale si noti come anche attualmente il suo stato d'animo rifletta una convinzione personale cioè non hai voluto ascoltare di rimorso e castigo per non aver creduto tutto ciò è un'opinione che non corrisponde assolutamente alla verità credete che dio favorisca chi lo loda piuttosto di chi lo bestemmia è assurdo così le nostre guide bollano certi atteggiamenti pseudo religiosi prosegue l'entità dice il maestro dopo il trapasso del suo corpo fisico sosta vicino a questo per un po di tempo ed è ricordatelo questo ed è grandemente disturbata dalle scene di pianto degli astanti spesso in questo suo primo contatto con un piano di esistenza diverso l'individuo è aiutato dalle persone care trapassate prima di lui che cercano di distaccarlo dalla vista del suo corpo fisico se il passo è stato violento l'individuo non si rende subito conto del cambiamento di stato qui sopravviene una sorta di sonno con sogni durante il quale trapassato entra in una sommaria visione della vita trascorsa dinanzi ai suoi occhi si apre un mondo non molto dissimile da quello fisico ma che ha un'impronta diversa l'essenza del piano astrale ha la particolarità di modellarsi sotto l'impulso delle emozioni delle sensazioni dei desideri di ciascuno così ognuno si costruisce un suo mondo apparentemente solido colorato con profumi temperature suoni quindi c'è una come dire una capacità creativa del corpo astrale degli individui governato dal corpo mentale ancora assolutamente vitale in chi è trapassato che alimenta desideri sentimenti sensazioni questo alimentare tutti questi aspetti li concretizza perché la materia del piano astrale è estremamente maleabile e sotto l'impulso di questi desideri e di questi pensieri che si formano e che creano come un mondo che appare reale alla persona che si trova a vivere in quella situazione di nuovo un paragrafo redazionale sempre a scopo dimostrativo nella medesima seduta le nostre guide fecero manifestare un'entità da poco trapassata che nella sua ultima incarnazione aveva ucciso esperienza conseguente a quella sua azione avuta quando ancora era uomo insinuò nell'uomo suo un primo pentimento una coscienza embrionale allora nel piano astrale durante la cosiddetta purificazione il pentimento diventa rimorso l'esperienza si amplia attraverso il rivedere dal nuovo punto di vista l'azione compiuta e la coscienza si sviluppa ma si completerà solo quando l'incarnato subirà l'effetto del karma mosso cosa cosa ci dicono in questa in questa nota redazionale ci dicono che con il trapasso c'è la possibilità di rivedere alcune azioni compiute nella propria vita da incarnato riprenderle in considerazione e questo prendere in considerazione in qualche modo genera un fermento a livello della coscienza ma la coscienza si arricchirà dell'esperienza cioè supererà diventerà più matura e farà sì che l'uomo non arrivi più a uccidere quando incarnandosi di nuovo nella successiva o in una delle successive incarnazioni quell'uomo che ha ucciso subirà l'effetto del karma mosso che uccidere è un'azione e per la legge di azione e reazione come abbiamo visto nelle precedenti letture arriverà a un certo punto che una persona quando è in grado di comprendere dal karma che subisce subirà quell'effetto e quindi la sua coscienza avrà completato questo aspetto che in questo momento è come se si preparasse a raggiungere quella maturazione che avverrà però solo quando l'uomo tornerà ad incarnarsi e si confronterà con quell'effetto allora marilena può succedere che lasciando il corpo fisico ci si trovi direttamente in quello mentale oppure c'è un ordine bisogno prima e bisogna passare prima per l'astrale sei stata molto chiara e ce lo stanno proprio dicendo cioè noi siamo costituiti da corpi corpo fisico corpo astrale corpo mentale corpo della coscienza è una progressiva un progressivo come posso dire annullamento di questi corpi vanno proprio piano piano si sfogliano non c'è più tutta questa difficoltà che abbiamo noi con il concetto del morire per cui siamo molto turbati all'idea di dover lasciare noi il nostro corpo fisico così come siamo turbati all'idea di vedere che altri magari i nostri cari lasciano il loro corpo fisico no questo c'è però una volta che siamo in questo percorso dopo il dopo la morte del corpo fisico non c'è questo tipo di angoscia ma semplicemente avviene tutto molto gradatamente c'è chi ci mette di più c'è chi ci mette di meno come dicevo all'inizio sono indicazioni molto generiche quelle che vengono date in questo momento che valgono per tutti ma non non c'è una spiegazione per ognuno di noi ognuno ha la sua storia anche dopo il trapasso e dopo il trapasso è molto graduale questo piano piano sciogliersi dei corpi che hanno costituito la nostra esperienza reincarnativa corpo fisico corpo astrale corpo mentale ricordate dalle prime letture dicemmo che invece il corpo e la coscienza si arricchisce delle esperienze quindi quello non è un corpo che si impoverisce e poi scompare quello prosegue perché quello è il sentire che matura di vita in vita e si si ripresenta quel sentire di nuovo sul palcoscenico della vita con un nuovo corpo fisico un nuovo corpo astrale un nuovo corpo mentale quindi vanno abbandonati tutti e tre in maniera molto graduale dice maria vittoria l'equilibrio karmico si può ristabilire anche prima del trapasso quando cioè si prende coscienza della causa mossa e beh alcune tanto una causa quando si muove una causa inevitabilmente c'è un effetto no se tocco una fiamma inevitabilmente mi brucia non può essere che tocco la fiamma e non mi brucia faccio un esempio così molto molto semplice perciò mossa la causa c'è un effetto indubbiamente capire avendo mosso una causa capire che aver mosso quella causa non è stata la cosa migliore da fare è già è già qualche cosa che facilita il percorso rispetto a quella però l'effetto dovrà ricadere ricadrà con maggiore consapevolezza per chi lo incontra per chi lo riceve sarà più pronto a fare questa esperienza ma i due elementi causa effetto sono legati fra di loro nel momento che si muove una causa c'è un effetto inevitabilmente ah sì qui c'è katia che cita un film che descrive un po' diciamo alcune cose che si avvicinano un po' è un po' una descrizione come dire leggermente fantasiosa ma ma anche molto efficace in questo film che si chiama no solar chi non l'ha visto lo veda perché è interessante dice domenico siamo eterni e eugenio siragusa diceva l'uomo non può morire neanche se lo desidera diciamo che l'essere non può morire e sicuramente l'essere non desidera di morire perché non fa parte delle sue aspettative ma l'uomo l'uomo in quanto uomo quanto un uomo incarnato passa da un'incarnazione all'altra e quindi passa attraverso questa esperienza che noi chiamiamo morte ma che semplicemente il trasferirsi a vivere in un'altra dimensione di esistenza fin quando non gli serve più stare dentro queste dimensioni di esistenza che sono di ricordo stati di coscienza non deve più conformarsi a un determinato stato di coscienza ma semplicemente torna a vivere costituendo un altro corpo e altri strumenti per fare altre esperienze finendo questa pagina l'entità che si manifestò in quello che aveva ucciso implorava di non essere uccisa dimostrava di essere in preda a una grande angoscia a un invincibile terrore in qualche modo sperimenta quello che però che lui ha fatto provare in vita a qualcun altro le nostre guide precisarono che in realtà nessuno faceva del male a quella creatura era lei stessa che viveva creandoselo un dramma dalle tinte così fosche secondo il suo grossolano modo di esprimersi e in funzione della sua rozza sensibilità o possibilità di ricevere il terrore provato non era la condanna per l'atto commesso ma l'unico modo per farle comprendere il valore di ciò che aveva fatto in altre parole per renderla cosciente quindi anche questa esperienza così dura non è un'esperienza reale è un'esperienza creata proiettata e resa reale realmente reale così come per per noi è reale il mondo nel quale noi viviamo ci muoviamo è così reale che quest'uomo la viveva ma il viverla era l'unica possibilità per far comprendere profondamente a quest'uomo proprio perché si preparasse nella sua coscienza lo sbocciare di una consapevolezza diversa riguardo al bene al male all'uccidere non uccidere via dicendo prosegue la nota per quanto riguarda invece il suicidio in un'altra occasione i nostri maestri ebbero modo di dirci che coloro che si tolgono la vita solo per sfuggire alle loro sofferenze fisiche o morali non raggiungono lo scopo e questo è un altro punto importante perché fino a quando il loro karma non è esaurito le loro sofferenze continuano nel mondo astrale perciò siamo davanti a una situazione in cui c'è qualcuno che incontra delle sofferenze nella sua vita e ci dicono i maestri quello è il karma di questa persona cioè questa persona sta incontrando l'effetto di qualche cosa che lo riguarda direttamente nella precedente catena di incarnazioni che si sono congiunte fino a lui, che riguardano lui quindi se uno pensa di sfuggire a questo karma cioè di sottrarsi a queste sofferenze togliendosi la vita in realtà che cosa succede? Succede che quelle stesse sofferenze continuano nel mondo astrale con questa modalità con questa capacità dell'individuo trapassato di ricreare per se stesso quelle stesse situazioni e continuare a viverle finché non è esaurita quell'esperienza necessaria ad arricchire la sua coscienza per cui lui arricchita quella coscienza in una vita successiva non muoverà più quelle cause che hanno determinato quell'effetto doloroso nell'ultima incarnazione I maestri funzioni del piano astrale nel piano astrale troviamo ambizioni di tutte le categorie sociali creature che furono sacerdoti di qualche religione non mosse da vocazione ma da ambizione e qui mi sa che parecchi dei nostri non mosse da vocazione ma da ambizione qui nel piano astrale si creano chiese e monasteri dei quali essi si immaginano di essere reggenti uomini politici che si figurano capi di governo vanitosi che si creano una corte ammirante le loro bellezze e così di seguito pensate che potere espressivo che c'è nel piano astrale e quanto e quanta illusione si vive per portare a compimento un percorso carmico questa è un'altra nota un altro esempio questa volta per mostrarci come il desiderio di arrivare primeggiare l'ambizione smodata la vanità il culto di se stessi abbiano conseguenze nel piano astrale ci fu dato con la manifestazione dei pensieri di un'entità occupata a tenere con la sua immaginazione una conferenza si trattava di un artista le cui opere non avevano incontrato il favore del pubblico e la mancanza di successo aveva creato nel suo animo uno smisurato desiderio di essere lodato ora nel piano astrale appagava questa sua aspirazione immaginando di essere interrotto nella sua conferenza da entusiastici applausi del pubblico chi era presente a questa seduta poté udire le parole dell'entità le pause che essa faceva immaginando di essere applaudito e perfino il caratteristico rumore di chi si versa un bicchiere d'acqua da una bottiglia oggetti questi che nella stanza non c'erano prima di leggervi quello che segue voglio vedere queste due domandine allora i maestri hanno mai parlato di contro iniziati non so cosa siano i contro iniziati e sicuramente non ne hanno mai parlato i maestri ne ho sentito parlare ma non ho neanche capito bene di cosa si tratti neanche io e mi sembra che siamo abbiamo una una fantasia noi per per inventarci delle cose strane Anna Maria quindi ad ogni causa c'è un effetto ma possiamo anche essere l'effetto di una causa? no, non possiamo, oddio questa è una domandina curiosa è ovvio che non possiamo essere l'effetto di una causa nel senso come comunemente si intende ma possiamo incarnare una vita di un certo tipo perché abbiamo avuto una vita di un altro tipo i maestri da qualche parte parlano di vite di azione e di reazione le vite di azione sono le vite in cui muoviamo cose le vite di reazione sono le vite in cui ci confrontiamo con le cose che abbiamo mosso precedentemente dove subiamo più gli effetti che attivare nuove cause in qualche modo incarnandoci in questo tipo di vite possiamo dire che incarniamo gli effetti di cause mosse nelle vite di azione forse così riesco a risponderti quindi non è vero che si sceglie nelle varie reincarnazioni anche di morire ma questo è un tema molto delicato la scelta di morire perché riguarda il tema della scelta cioè ci dobbiamo domandare quanto noi scegliamo nella vita che possibilità abbiamo di scegliere nella vita che funzione abbiamo nella vita nostra e in relazione alle vite degli altri se tutto è collegato di scelta ce n'è poca ma è anche vero che per poter interpretare pienamente la nostra vita noi dobbiamo avere l'assoluta convinzione di operare scelte e per cui possiamo anche essere assolutamente convinti di operare la scelta di sottrarci alla vita in qualche modo poi c'è da vedere se il grado di coscienza a cui apparteniamo la maturità di coscienza che abbiamo può impedire che noi si faccia una scelta di questo tipo perché se non lo può impedire è ovvio che siamo molto determinati in una scelta del genere allora qui c'è un'altra cosa che riguarda l'eutanasia infatti ho risposto adesso non avevo ancora letto la domanda ma ho già risposto allora cosa ci dicono le guide? fino a che l'entità non si svincola dai suoi desideri dalle sue fantasie, da certe aspirazioni inappagate permane nel piano astrale per questo non è possibile dire che è un percorso uguale per tutti c'è chi nel piano astrale ci transita rapidamente c'è chi invece ci si sofferma molto a seconda di quanti sono stati per lui importanti, forti, robusti certi desideri e quanto tempo ci mette a sganciarsi da questi vincoli soprattutto emotivi fino a che l'entità non si svincola dai suoi desideri dalle sue fantasie, da certe aspirazioni inappagate permane nel piano astrale infine quando l'entità ha elaborato tutti i suoi sogni e i ripensamenti della vita fisica non ha più il desiderio di perdersi nelle fantasie che si traducono così bene in forme da sembrare un mondo reale si desta ad una nuova consapevolezza il suo corpo astrale si è liberato dalla materia più densa e comincia a spaziare un orizzonte più ampio viene a contatto con la vita del piano astrale quindi c'è una prima fase in cui viviamo nel piano astrale una vita un po' più illusoria più illusoria, no? che è quella creata dai nostri desideri ed è talmente reale che noi siamo convinti di viverla effettivamente alla fine di stare immersi in questa ripetizione, ripetizione, ripetizione sempre della stessa cosa e anche senza la piena soddisfazione di queste esperienze perché non abbiamo più un corpo fisico per esempio per bere il vino che ci piace possiamo crearci un'enoteca piena delle migliori bottiglie che potremmo assaporare ma ci manca il corpo fisico che traduce le sensazioni che il corpo astrale vorrebbe poter provare non ce l'abbiamo più e quindi sono desideri soddisfatti parzialmente quando la creatura si stanca allora può uscire da questa specie di sogno come se fosse proprio un sogno anche se è molto concreto, molto reale e comincia a guardarsi intorno e scopre che si trova nel mondo astrale cioè comincia a vedere il mondo astrale per quello che è come è fatto scopre una realtà di esistenza diversa perché non è più limitato da tutti questi desideri che ormai hanno perso la loro forza perché sono stati o appagati o del tutto inappagati ma comunque non hanno più non ci sono più dentro l'essere l'individuo può vedere così oltre agli abitatori temporanei di quel piano che sono entità di passaggio come lui gli abitatori permanenti che sono gli spiriti cosiddetti elementari i quali hanno una loro forma propria una forma che deriva dalla funzione che essi svolgono sono delle forze intelligenti personificate strumenti delle leggi divine atti a costituire il corpo astrale e il corpo fisico degli individui in modo consono allo sviluppo che questi debbono conseguire cioè ci sono degli abitatori in questo piano astrale nel quale a un certo punto uno si svegliandosi dal suo sogno astrale comincia a guardarsi intorno vede queste creature abitatori permanenti del mondo astrale che svolgono delle funzioni delle funzioni molto pratiche cioè proprio come degli automatismi non sono dotati di coscienza e si dedicano anche questo è importante si dedicano alla costruzione dei corpi fatti in maniera tale per poter svolgere nella loro periodo da incarnati le corrette mansioni con i limiti imposti dai corpi fisici dai corpi astrali predisposti da queste intelligenze che si dedicano proprio a questo compito incontra poi gli aiutatori astrali aiutatori astrali sono entità le quali hanno la missione di aiutare a staccarsi e ad abbandonare il piano astrale taluno può seguire ciò che accade nel mondo fisico rivedere le persone care che ha abbandonato anche se questo contatto è unilaterale unilaterale perché chi ancora riveste una forma fisica non può avvertire questa vicinanza quindi chi sta nel piano astrale può anche seguire le vicende delle persone care che ha lasciato nel mondo fisico nel mondo fisico noi sappiamo che abbiamo una dotazione strumentale che ci consente di sperimentare esclusivamente questo piano di esistenza così come lo vediamo intorno a noi molto materiale, molto grossolano è una materia molto densa questa densità e gli strumenti che ci permettono di sperimentare questa densità e che non vanno oltre questa densità non possono percepire cose sottili come come il piano come la materia del piano astrale mentre invece chi è nella sottigliezza può seguire ciò che avviene nella dimensione più più grossolana lo strumento grossolano non riesce a vedere nel sottile lo strumento sottile riesce a vedere anche nel grossolano ecco perché non sarà mai ripetuto abbastanza di pensare ai cari scomparsi cercando di infondere loro un senso di liberazione non richiamandoli con la visione della nostra disperazione e del nostro dolore ma accettando con la massima serenità è possibile questa pausa di attesa sicuri che essi saranno ad accoglierci quando il nostro cammino terreno sarà giunto a termine questo ecco qua qui c'è una Sandra che dice mia mamma mi ha lasciato tre settimane fa ora sto cercando ascoltando lei Enrico cosa può aver provato mia mamma lasciando il suo corpo fisico tutto ciò che lei sta spiegando mi emoziona molto sai che non ti so proprio dire non posso sapere cosa può avere sicuramente come abbiamo fatto noi ecco partiamo da questo punto di vista tutti noi tutti noi tutti noi abbiamo tutti quanti fatto un sacco di volte questa esperienza proprio se noi ce lo potessimo ricordare saremmo estremamente tranquilli rispetto al trapassare il trapassare è meno di una puntura di spillo proprio non succede niente è un continuo si passa da una condizione esistenziale a un'altra proprio non c'è un'interruzione solo che ci si accorge di essere in una in un mondo diverso in una realtà diversa ricordate i passaggi quali sono i passaggi sono che l'entità trapassa comincia a vedere il suo corpo fisico da fuori sta vicino al suo corpo fisico un minimo di tempo un giorno un giorno e mezzo due giorni dopodiché si distacca da questa visione si immerge in una sorta di di sogno chiamiamolo così in cui rivede molto molto rapidamente un po' tutta la sua vita collega le cose si fa un'idea un po' di quello che è successo e poi per quelli che sono stati i i desideri gli impulsi che hanno abitato molto ognuno di noi per tutta la vita si sono dedicati a certe cose si sono stati trascinate da certe passioni da certe cose le ricreano hanno questa facoltà di ricrearle e di cercare di trarre il massimo della soddisfazione potendo circondarsi di tutto quello che che hanno desiderato fino fino ad allora e magari non hanno potuto ottenere e quindi si creano una curiosità si creano gente che li incensa oppure si creano come dicevano certi c'è magari qualcuno che avrebbe voluto essere cardinale si crea la sua chiesa e diventa papa si fa tutti ognuno si fa il suo film ma non è un film è una realtà per loro cioè viene vissuta come qualcosa di reale è una specie di sogno che non finisce mai che dura tantissimo fin quando non si è esaurito questo desiderio quando si è esaurito c'è il risveglio dentro questo mondo astrale il risveglio dentro il mondo astrale permette alle persone di guardarsi intorno capire un po' come è fatto questo mondo e anche di entrare in contatto con entrare in contatto loro con qualcuno che invece è rimasto nella materia più grossolana e osservarlo seguirlo sicuramente avrà come dire un'intenzione di protezione di amore di come dire di accompagnamento spirituale verso le persone che ama quel che è importante per noi che ci dice la guida in queste ultime parole è pensateli vivi non li pensate morti perché fareste un torto sono vivi non sono morti pensateli vivi ogni pensiero che fate verso queste persone arriva viene percepito perché loro hanno la facoltà di percepirli ma noi no noi non riusciamo a fare questo perché abbiamo questo filtro così grossolano per loro invece è più facile percepire i nostri pensieri e soprattutto se non li piangiamo non li chiamiamo mi hai lasciato mi hai abbandonato mi sento solo dove sei ti prego tutto questo disturba le persone che sono trapassate perché non hanno non hanno potere di farsi sentire potessero direbbero io sto benissimo sto veramente bene ti vedo ti voglio bene però se ti disperi dalla mattina alla sera non mi fa tanto bene una cosa del genere mi fa meglio se mi dici tranquilla so che vivi che esisti che mi segui che sarai sempre con me me lo ricordo bene qual è il tuo amore nei miei confronti e quindi con quello vado avanti sicuro nella mia vita ecco un messaggio di questo tipo è un messaggio che aiuta entrambi sia di qua che di là e domenico dice il fatto che ogni incarnazione non ci venga data la possibilità evita errori il trapasso decelera la nostra evoluzione no rileggo bene perché non so se tutti l'hanno potuto leggere il fatto che ad ogni incarnazione non ci venga data la possibilità di ricordare vite ed errori precedenti e il trapasso nel mondo astrale chiede decelera la nostra evoluzione al contrario al contrario domenico perché questo noi non ricordiamo neanche non ci viene data la possibilità è che noi quando prendiamo ci reincarniamo cioè torniamo di nuovo a vivere noi partiamo con un corpo completamente nuovo un corpo fisico e quindi anche un cervello fisico poi abbiamo un corpo astrale nuovo un corpo mentale nuovo tutto quello che era parte dell'esperienza mnemonica di una vita precedente non lo possiamo contenere non è contenuto non è come quando compriamo un computer nuovo leviamo la memoria dal computer e la infiliamo in quell'altra no non funziona così ma questo fa sì che noi viviamo la nostra vita assolutamente liberi da influenze riguardo al fatto che sapremmo che cosa abbiamo fatto nelle vite precedenti altrimenti ogni nostra scelta sarebbe pesantemente influenzata dal sapere alcune cose ci limiteremmo in certi comportamenti e quindi non apprenderemmo le cose necessarie per le quali ci siamo incarnati in questa nuova vita vediamo un po' qua perché si è costruito in noi questa paura del trapasso ma sai beh qui anche qui sono tutti temi queste domande che voi fate sono titoli per conferenze di due ore ognuno non si può naturalmente perché noi adesso andiamo avanti nella lettura però vedi è il fatto che noi abbiamo questa limitazione dovuta a questi strumenti che ci consentono di vedere solo fino a un certo punto questo fa sì quindi che non sapendo che cosa c'è oltre quel punto ci vengono mille dubbi non sappiamo no non abbiamo più il controllo di noi stessi di quello che avviene non abbiamo risposte non avevamo perché se siete qui ad ascoltare queste cose adesso le risposte ce le avete ce le abbiamo tutti quanti quindi questo spiega perché non ricordo i sogni beh lì c'è forse qualcosa di diverso qui serena cunial risposta a patrizia non so cosa vuol dire questo eutanasia e allora suicidio ho già risposto prima a questo Anna lucia possono crearsi un grande amore non avuto sulla terra per pensarli vivi anche se difficile credo sia l'atto di amore più grande che si possa fare beh sicuramente aiuta entrambi aiuta entrambi ma soprattutto soprattutto si sta più vicini a ciò che è reale di questa esperienza perché la realtà è che le persone che trapassano non muoiono trapassano trapassano proprio il termine giusto perché passano da qua alla e quindi ci sono vivono si possono dispiacere del fatto che noi non siamo consapevoli del fatto che loro sono vive loro ci vedono vivere il nostro modo di stare di qua e di ricordarli e di incoraggiarli nel loro percorso può molto può molto aiutarli può molto aiutare noi perché ce li fa sentire vicini presenti sappiamo che stanno bene sappiamo che fanno il loro percorso possiamo ancora sentirli in qualche modo presenti accanto o dentro di noi e aiuta loro a essere più rilassati in quello che devono fare perché anche loro hanno il loro compito dico in particolare alle mamme che perdono i figli e soprattutto i figli giovani se li pensate vivi dovete sapere che avendo vissuto poca vita non possono aver radicato in sé essersi un po' impantanati in tantissimi desideri che li frenano che impediscono il loro slancio il loro liberarsi non avendo vissuto poco non possono avere fatto come dire essersi appesantiti troppo e quindi avere necessità di un lungo periodo di purificazione e allora potete essere loro d'aiuto incoraggiandoli cioè sapendo che sono vivi e dicendogli sono qui non ti posso vedere ma so che ci sei ti posso incoraggiare stare vicino tranquillo va tutto bene non ci perdiamo di vista perché quando si fornì quando si creano legami di amore questi legami di amore non non si interrompono mai non si interrompono nella successione delle incarnazioni è un continuo ritrovarsi nella successione delle incarnazioni quindi è solo un'interruzione ma è un darsi un appuntamento e allora i genitori possono continuare a fare i genitori perché i figli hanno bisogno di questo una volta trapassati allora andiamo avanti nella nostra lettura io non mi ricordo più dove era arrivato ma in questa non sono mai ripetuto di pensare carichi intrapassando ok in questa regione del piano astrale in questa regione del piano astrale l'individuo sosta quel tanto necessario al decadimento di tutti i gusci del suo corpo astrale potete immaginare il corpo astrale come una cipolla che perde sempre le parti o un carciofo tutte cose vegetali mi vengono che si levano le foglie no si va sempre più al nucleo per cui necessario al decadimento di tutti i gusci del suo corpo astrale abbandonato completamente il corpo astrale evento simile alla morte del corpo fisico simile ma che non dà la stessa tipo di angoscia l'individuo si trova sulle soglie del piano successivo a questo il piano mentale che prima di allora non aveva percepito è un po' come noi noi siamo qua nel piano fisico e non percepiamo il piano astrale infatti coloro che hanno la loro consapevolezza nel piano astrale possono seguire ciò che accade nel mondo fisico ossia nel piano immediatamente più denso ma non hanno percezione degli altri piani più sottili così come vivendo nel piano fisico non si ha idea del sussistere di altri piani di esistenza non se ne ha un'idea per chi non ha incontrato per esempio questo insegnamento perché voi adesso lo state apprendendo e quando arriverà il momento in cui lasciate il corpo fisico saprete dove vi trovate e saprete che ci sono successivi non è che viene dimenticata questa cosa una volta abbandonato il veicolo astrale e con questo assopiti i desideri insoddisfatti le facoltà mentali dell'individuo sono più pronte e più chiare cioè non è che cambia la mente ma è la stessa mente ma più limpida perché non c'è il filtro del desiderio del piano astrale che un pochino smorza la potenzialità di quella mente e può così riflettere sulla sua ultima incarnazione con più chiarezza è il momento in cui trova spiegazione a tante domande circa gli eventi della sua vita terrena domande che l'individuo si era posto sia durante lo scorrere degli avvenimenti sul piano fisico sia dopo il trapasso quindi qui riesce a ricollegare un po' tutto a dare spiegazioni al percorso che è avvenuto quando era incarnato questa rinnovata facoltà mentale spinge l'individuo se il suo passato o comportamento glielo consente a ricercare la spiegazione di altre cose che desidera e desiderava capire gli studiosi hanno nel piano mentale il loro paradiso qui l'individuo può erudirsi ed appagare la sua sete di sapere più di quanto poteva fare da incarnato in sostanza completa le nozioni che ebbe nell'ultima incarnazione ogni fatica è trasformata in abilità ogni aspirazione in potere pensate che bella questa esperienza nel corpo mentale che si libera nel piano astrale per esempio colui che fu Enrico Fermi è stato uno degli artefici della scoperta che possiamo dire ha battezzato questo secolo perché nella penultima incarnazione cioè prima di essere Enrico Fermi fu un alchimista che si interessava della costituzione della materia dopo la morte del suo corpo fisico nel piano mentale continuò ad interessarsi vivamente della questione e nella nuova incarnazione che ebbe attualmente l'ultima egli poté illuminare l'umanità pensate che bella questa cosa naturalmente questo può avvenire per chi ha una certa evoluzione oltre che interesse a un dato problema gli scienziati continuano a studiare quei problemi ai quali non seppero trovare risposta in modo che nella nuova incarnazione ne avranno già insite nell'intimo le soluzioni lo studioso della natura dopo aver lasciato il corpo astrale continua ad interessarsi di quei problemi ai quali aveva posto attenzione di tutto quello che l'individuo impara nel piano mentale rimangono i frutti della riflessione delle riflessioni circa il significato della vita rimane la facilità di apprendere in una prossima incarnazione quanto l'individuo ha elaborato nel piano mentale ma non sarà mai che un uomo possa evolvere spiritualmente ed iniziare qualcosa di nuovo nel piano mentale o comunque dopo il trapasso perché se ciò fosse la vita sul piano fisico non avrebbe più significato l'ampliamento delle cognizioni acquisite avviene attraverso ad un processo di intuizione una volta elaborato tutto il materiale accumulato nell'ultima incarnazione l'individuo lascia il proprio corpo mentale e le facoltà raggiunte assieme alle esperienze passano come germi nel corpo acasico nella coscienza individuale libera da ogni velo d'oblio cioè tutti quei veli che nascondono questa coscienza individuale anche mentre uno si trova nel piano mentale a quel punto scompaiono i corpi densi non ci sono più e il succo dell'esperienza va ad arricchire la coscienza allora andiamo aspetta qui c'è un'altra cosa grazie per queste conferme ho perso mia madre sei anni fa la ricordo sempre nelle cose belle soprattutto il suo modo esplicito intelligente e amorevole che lei aveva ma certo certo che fai bene a ricordarla così noi genitori che facciamo il possibile per capire cara lo so questa è un'esperienza enorme questa che fate voi genitori va bene vediamo un po' allora fatemi vedere un po' qui dove si va a finire perché ah ma sapete che c'è io finisco questo se avete pazienza io finisco questo capitolo perché è troppo interessante così poi ripartiamo da un'altra cosa allora l'unico che non cambi nel senso che non viene abbandonato è appunto il corpo acasico si hanno allora due casi se l'individuo non è evoluto una volta abbandonato il corpo mentale entra in una sorta di torpore ed è occupato nel rivedere tutte le esperienze trascorse questo torpore è chiamato il riposo dell'ego se invece è sufficientemente evoluto cioè se la sua coscienza individuale è abbastanza organizzata egli ha una visione del piano acasico che gli dà più che riposo beatitudine perché nel piano della coscienza pensate la coscienza individuale è perciò il prodotto di tutte le esperienze avute nelle varie incarnazioni non condizionatamente al ricordo di esse è una parte dell'individuo stesso l'individuo è inteso come sentire come coscienza nel suo percorso evolutivo ogni esperienza è un frammento di verità ritrovata dall'individuo che determina crescita, sviluppo nel piano acasico in questo piano non vi è più il senso di separatività creato dalla mente perché il senso di separatività è un prodotto della mente l'egoismo è un prodotto della mente quando si focalizza sui propri bisogni e su come fare a soddisfarli a trovare il modo a occuparsi più di sé che degli altri tutta la mente che fa che sviluppa questo processo l'io è in qualche modo un sinonimo di mente mentre coscienza non è fondata sul senso di separatività che pervade costantemente l'io e l'individuo si rende conto di essere un tutto con il resto dell'emanato che la vita dell'uomo non è il collaudo dell'anima ma creazione in atto questa ve la dovreste segnare perché più avanti ma molto più avanti capirete che cosa vuol dire spiegarvelo ora sarebbe sarebbe un po' complesso va bene il trapasso specie quando è violento molto spesso è inavvertito così come inavvertita proprio è la nascita ecco questa è proprio questo paragone cioè ognuno di noi della nostra nascita non ha memoria non ha memoria anche perché non ci sono le strutture neuronali collegate a ricordo si formano con il passare dei mesi non hanno un anno e mezzo di vita per cui è lì che cominciamo blandamente a ricordare qualcosa stessa cosa per il trapasso non c'è non è un momento di grande consapevolezza di quello che succede in quel passaggio da una vita a un altro tipo di vita abbiamo detto che l'individuo dopo aver abbandonato i veicoli astrali e mentale se non ha una certa evoluzione cade in una sorta di torpore questo è dovuto al fatto che non avendo la coscienza abbastanza costituita formata non ha neppure i sensi per vivere nel piano della coscienza e quindi cade in una sorta di incoscienza di inconsapevolezza da questo momento l'individuo si risveglierà nella sua infanzia nell'infanzia del suo nuovo corpo fisico da quando lascia il corpo mentale fino alla nuova incarnazione ai primi bagliori di consapevolezza l'individuo non vede e non sente e non percepisce più niente ma c'è sempre che abbia un'evoluzione che non gli permetta di vivere consapevolmente sul piano acasico nel caso invece che l'individuo per evoluzione possa vivere nel piano acasico egli prolunga la sua consapevolezza anche dopo l'abbandono del corpo mentale e vive con una certa consapevolezza anche nel piano acasico nel piano della coscienza consapevolezza che è in proporzione appunto alla costituzione della sua coscienza più questa coscienza si è maturata attraverso le esperienze della vita più ha strumenti, possibilità, capacità di capire quello che gli succede intorno un po' come voi pensate un bambino che non ha ancora maturato molte conoscenze sul mondo vede e sa poco del mondo lo vede e ci si trova, fa delle esperienze mentre un uomo che ha vissuto tutta una vita una persona anziana che ha vissuto tanto ne ha viste di tutti i colori conosce moltissimo di più e vede con altri occhi e con altre possibilità il mondo che sta intorno a lui stessa cosa nella coscienza poi al momento della nuova incarnazione anche per questo individuo vi è un periodo di preparazione un periodo in cui egli per così dire muore a questa consapevolezza anche lui si piano piano si ritira dalla consapevolezza di stare in questo piano perché quando si riveste di nuova materia mentale che poi si organizzerà in un nuovo corpo mentale è come assopito si parla dell'essere e ci danno delle immagini che ci fanno sembrare come delle persone che vivono queste esperienze ma stiamo parlando dell'essere l'essere è una cosa un po' diversa è coscienza che vibra è un po' più così così pure per il corpo astrale e per il corpo fisico ad ogni nuova incarnazione si forma un nuovo corpo mentale un nuovo corpo astrale un nuovo corpo fisico l'akasico è quello che rimane sempre e questi nuovi corpi che si formano hanno in sé delle prerogative delle particolarità che vengono ereditate dalle precedenti incarnazioni cioè si formano si sviluppano secondo le direttrici che corrispondono a nuove necessità di evoluzione che sono eredità di precedenti incarnazioni allora ciò che è eredità della precedente incarnazione non è un corpo fisico di un certo tipo ma sono le necessità evolutive cioè aver vissuto esperienze reincarnative precedenti ha sviluppato coscienza fino a un certo punto ci sono delle necessità evolutive cioè quell'essere che ha vissuto ha fatto del suo meglio per aggiungere conoscenza ricchezza a questa coscienza e ha preparato così il cammino per il passo successivo il passo successivo è la necessità evolutiva i corpi che si formeranno devono corrispondere alla possibilità di realizzare quella necessità evolutiva quindi è tutto collegato questo ci dice che noi siamo il frutto di tanta gente che si è data un sacco da fare perché noi potessimo fare l'esperienza esistenziale che stiamo facendo ora ma al tempo stesso siamo anche coloro che stanno preparando la strada per qualcun altro pensateci bene se l'individuo ha studiato profondamente un dato argomento questo retaggio che è un retaggio del corpo mentale non va perduto dopo il trapasso quando l'individuo lascia il corpo mentale ma ritorna e l'individuo alla nuova incarnazione può ritrovare facilmente i frutti del passato studio basta una semplice applicazione e l'individuo trova in modo naturale in sé la conoscenza della materia che fu oggetto di studio nella precedente incarnazione mentre il nuovo corpo figlio ci sono no? i genitori lo sanno i figli sono bravissimi in qualche cosa ma ci sono dei bambini che come se ce l'avessero già dentro questa cosa e ce l'hanno già dentro per loro è facilissimo la matematica oppure lo studio di una lingua che la parlano quasi in maniera naturale da subito e ci hanno piacere di parlarla e di apprenderla è così mentre il nuovo corpo fisico è in formazione già si sa che quel corpo che sta per animarsi nel piano fisico è destinato a quella e quella sola entità quando il nuovo corpo prende vita cioè dopo il parto si ha il contatto con l'essere superiore ma non è un contatto completo come si avrà negli anni successivi il completo contatto con la propria coscienza avviene quando si sono sviluppati, rinforzati e sono diventati più competenti i vari altri corpi il veicolo che per primo risponde agli impulsi del corpo fisico è il corpo astrale cioè il bambino ha subito delle sensazioni le sensazioni derivano dal corpo astrale cioè il bambino ha delle sensazioni sia pure per quanto riguarda soltanto la sua vita vegetativa cioè freddo, caldo, fame vita vegetativa è come se ripercorressimo un po' nel momento della nascita in avanti il mondo vegetale poi il mondo animale fino ad arrivare alla consapevolezza con la piena presenza del corpo mentale poi il bambino cresce e comincia ad avere dei desideri cioè ha trovato il completo contatto con il suo corpo astrale quando arrivano i desideri siamo in contatto con il corpo astrale successivamente si ha il contatto con il corpo mentale il bambino comincia ad avere dei pensieri ben distinti i primi ragionamenti naturalmente durante questi contatti siccome i veicoli non sono del tutto organizzati non si ha un trasfondersi di intelligenza già sviluppata ma si ha il contatto con la facoltà del ragionamento vedete come tutto è graduale e spiega anche per chi ha avuto esperienze di figli bambini, vederli nella loro crescita proprio come si mettono insieme questi elementi il fanciullo adopera questa sua facoltà e comincia a svilupparla andando a scuola, osservando i compagni l'ambiente che lo circonda i genitori se il veicolo mentale fosse già sviluppato dal contatto si avrebbe già il ragionamento e non già la facoltà del ragionamento del ragionare dunque da questi contatti si realizza prima la possibilità di avere sensazioni e desideri poi pensieri e ragionamenti mentre i relativi veicoli si organizzano sempre più fino alla maturità in genere possiamo dire che a sette anni vi è già il completo contatto e a buon punto è lo sviluppo del corpo astrale e a quattordici anni del corpo mentale a ventuno del corpo acasico o coscienza lo sviluppo è sempre posteriore al contatto perciò c'è un contatto e poi lo sviluppo si sviluppa e il contatto diventa sempre più pieno sempre più completo allora qui dice l'individuo può rimanere a lungo e beh ma questo per ognuno è diverso non possiamo sapere per ognuno com'è per alcune persone è una presenza un po' più lunga per altre meno approfondita un po' più breve a che età più o meno il bambino prende contatto con il proprio corpo mentale l'abbiamo detto adesso intorno ai 15 anni il contatto un po' prima il contatto e poi diciamo che intorno a ora poi bisogna dire anche questo sono molto indicative queste cose però noi lo vediamo nei nostri figli vediamo quando il corpo mentale comincia a essere praticato abbastanza bene con l'adolescenza ma nel nostro caso nei figli di oggi anche un po' più in là perché diciamo che soprattutto qua da noi li abbiamo un po' abituati che pensiamo molto noi per loro e che molti dei pensieri che le creature fanno sono generate da ciò che sta intorno quindi ci sono molti stimoli esterni che consentono che inducono un rallentamento del padroneggiare alcuni aspetti della propria mente che riguarda poi invece la parte più interiore dell'individuo peraltro sviluppano un'abilità per esempio alla velocità una persona che tornasse a vivere oggi con il corpo mentale di due o trecento anni fa non saprebbe come gestire la velocità alla quale sono abituati i nostri bambini e ragazzi per la velocità degli stimoli che hanno perciò per ogni fase storica c'è un processo evolutivo diverso e i collegamenti con le potenzialità dei vari corpi si completano forse in maniera diversa non secondo questa scansione che viene indicata qua dai maestri queste sono lezioni della metà del 1970 più o meno per cui insomma c'era un'altra infanzia allora dunque da questi contatti si realizza prima la possibilità di avere sensazioni e desideri poi pensieri e ragionamenti mentre i relativi veicoli si organizzano sempre più fino alla maturità allora questo abbiamo detto più o meno le età quali sono salto il paragrafetto naturalmente questi termini sono puramente indicativi e le età dei contatti possono variare da individuo a individuo certo è che l'uomo ha raggiunto il suo completo sviluppo quando entra in contatto diretto con la sua coscienza con il suo corpo acasico che adombrato dal corpo mentale nuovo per ogni incarnazione non può comunicare il ricordo diretto delle vite passate ma comunica all'inconscio del nuovo essere il succo delle esperienze trascorse sì che in ogni incarnazione l'individuo amplia la sua coscienza e non torna mai indietro nell'evoluzione nell'evoluzione non si torna mai indietro e questa è anche una delle differenze che si trova rispetto ad altri insegnamenti che soprattutto in India danno questa immagine per cui se non ti comporti bene per punizione potresti tornare a vivere come animale in una successiva incarnazione no, questo non può avvenire perché la coscienza si arricchisce sempre di qualunque esperienza qualunque esperienza porta ricchezza alla coscienza allora vediamo se qui c'è qualcosa d'altro do un'occhiata sulle quali sono le esperienze che ci fanno maggiormente evolvere io credo che non ci siano esperienze, dice Vio, Vio non credo che ci siano esperienze che fanno evolvere maggiormente credo che qualsiasi momento della nostra vita rappresenti un elemento evolutivo certo ce ne sono alcune eclatanti prima si parlava del fatto che ne so che ci sono persone che fanno l'esperienza per esempio di perdere un figlio un'esperienza molto grossa questa un'esperienza che coinvolge in maniera totalizzante la vita di una persona e questa vita, questa esperienza così totalizzante sicuramente dona moltissimo come ricchezza trascurando il fatto che è un'esperienza estremamente pesante, dura da vivere e se non lo fosse non sarebbe quello che è perciò insomma ha valore ma non bisogna pensare che solo cose così eclatanti donino evoluzione perché l'individuo quando si incarna ha un suo bagaglio di coscienza ed è previsto che con questo bagaglio di coscienza la faccia raggiunga determinati obiettivi ed è costruito per questo nasce in una specifica famiglia in una specifica epoca storica in una parte del mondo piuttosto che in un'altra con degli strumenti mentali, strumenti emotivi e anche corpo fisico di un certo tipo per poter raggiungere il suo obiettivo che non conosce che non sa, che non conosce ma che si genera giorno dopo giorno attraverso l'utilizzo di quegli strumenti di cui è dotato per cui ognuno va veramente per la sua strada in qualche modo una strada che è tracciata ma non da altri che lo obbligano ad andare in una certa direzione quanto da se stesso per come egli è fatto va in una certa direzione e poi lì ci sarà da vedere più avanti proprio il capitolo che leggeremo dalla prossima volta riguardo alla libertà e lì cercheremo di capire quali sono i margini di movimento che abbiamo in tutto questo processo allora qui dice Antonella l'individuo può permanere, questo l'abbiamo già visto vediamo un po' tutto ciò che accade accade per te l'hanno detto, si è proprio vero c'è un bellissimo brano dove c'è questa affermazione ma spiegando anche quindi Enrico, chi studia con passione l'insegnamento dei maestri nella prossima incarnazione li ritroverà facilmente sicuramente avrà nel proprio bagaglio evolutivo questa conoscenza e non solo la conoscenza perché poi andando avanti con la lettura di questo insegnamento con lo studio di questo insegnamento ci si rende conto che non si tratta solo di nozioni ma che queste cose che si apprendono generano una trasformazione dentro di noi e quindi c'è anche questa cosa che va ad arricchire la coscienza per noi che facciamo questo percorso allora se uno da incarnato sperimenta il piano astrale cosa dovrebbe comportarsi? chissà che avrà voluto dire questo Ferrero se uno da incarnato sperimenta il piano astrale sono pochissimi quelli che lo fanno ovviamente ci sono alcune tecniche ma io lascerei proprio perdere nel senso che se sei incarnato c'è un motivo e una funzione interessante molto se mio padre è morto incavolato con una persona lui rimarrà dopo incavolato così a me viene da dire di no perché una volta trapassato magari si rende conto del perché sei incavolato della funzione dell'essere incavolato quali sono le motivazioni altri punti di vista essere in un'altra dimensione di esistenza credo che ci dia anche una visione un po' diversa delle cose ci si rende un po' più conto delle cose e quindi si può guardare con occhi diversi allora l'esperienza due altre esperienze simili serve per avere più consapevolezza nei mondi sottili per andare il seme è stato agitato e tutto va continuamente ammafiato sì 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 bene allora oggi siamo andati un po' per le lunghe mi ha fatto molto piacere naturalmente noi la prossima volta riprendiamo da pagina 182 con il capitolo che si chiama libertà quindi dai mondi invisibili pagina 183 parliamo del tema della libertà è un tema estremamente affascinante siamo all'inizio della parte filosofica del primo capitolo del primo libro e quindi sono tutti capitoli di preparazione alle cose importantissime che troveremo più avanti vi suggerisco di soffermarvi un pochino su queste cose per fissarle bene dentro di voi beh questa persona mi chiede che libro potrei leggere questo che stiamo leggendo è utilissimo sì mi verrebbe da dire questo non so se già ce l'hai se non ce l'hai compralo se no rifammi la domanda e ti darò qualche altro titolo se non sei incarnato dove stanno le anime ah questa è carina beh sono domande bellissime ma purtroppo non si tratta di luoghi eh si tratta di stati di coscienza voglio dire che il mondo astrale non è da un'altra parte non è fuori dalla finestra in cielo mondo astrale esattamente dove il mondo fisico dove il mondo mentale dove la coscienza è tutto quanto permeato dalle varie sottigliezze di materia sono stati di coscienza che consentono di avere di ciò che sta intorno a te una visione piuttosto che un'altra quindi bisogna ribaltare un po' questo concetto dello spazio e ripensarlo in un altro modo ma ci torneremo sopra soprattutto con il secondo volume quando ci arriveremo adesso vi saluto tutti con molto piacere vi ringrazio di essere stati insieme a me io sono stato contento di stare con voi ci rivediamo ah ci rivediamo fatemi pensare l'8 di gennaio 8 di gennaio alle ore 21 e da allora faremo regolarmente ogni 15 giorni una volta alle 21 e 30 stavo sbagliando alle 21 e 30 e una volta alle 15 sempre di venerdì quindi l'8 alle 21 e le 30 dopo due settimane che adesso non mi viene subito al volo di dire quando è probabilmente il 22 di gennaio ci vediamo alle 15 poi due settimane ancora dopo alle 21 e 30 e andiamo avanti così andiamo avanti così fino a luglio addio piacendo come dicono gli arabi inshallah vi ringrazio a presto arrivederci a tutti buone feste per come potete a presto allora rise a presto a presto a presto se ne